Campovasso riparte dopo i mesi bui dell'emergenza sanitaria. L'associazione Acta Arti Cinema e Teatro ha scelto Piazzetta Palombo per presentare tutti i suoi docenti e le sue attività. La scuola di teatro per bambini, adolescenti e adulti, la scuola di scrittura creativa per bambini e adolescenti, seminari intensivi e workshop, corsi fruibili non solo nel capoluogo ma anche a Termoli. L'attore Diego Florio ha illustrato i dettagli dell'offerta formativa. Cerchiamo di ripartire e di investire nonostante, come tutti sappiamo, sia stato un anno difficilissimo per le nostre attività e di fatto ancora non riusciamo a riprendere con continuità le nostre attività consuete e speriamo di riuscire a superare questo momento il prima possibile. Oltre ai corsi l'associazione lavora come sempre anche alle sue produzioni. Stiamo aspettando appunto di avere conferma per le date, dovremmo riuscire quasi sicuramente a debuttare nella coda finale dell'autunno quindi diciamo la prima quindicina di dicembre forse riusciremo ad andare anche in scena con il nostro allestimento su Matteotti e poi in cantiere abbiamo messo anche altri allestimenti di teatro ragazzi. Alla conferenza stampa di presentazione anche il vice sindaco, assessore alla cultura del comune di Campobasso Paola Felice che ha portato il sostegno dell'amministrazione comunale. Tra le novità di quest'anno spicca la scuola di scrittura creativa affidata tra gli altri a Gianmarco Galuppo. Il corso per bambini cercherà di stimolare maggiormente la sfera affettiva del bambino che dovrà imparare a conoscere le proprie emozioni, a rappresentarle non solo in forma scritta perché parliamo di bambini della fascia appunto 6-8 appena scolarizzati che iniziano a scrivere, non scrivono perfettamente ma che potranno esprimersi anche in forma grafica attraverso disegni o attraverso lavori manuali che noi chiamiamo mani, amore e fantasia. Ai ragazzi invece cercheremo di insegnare le basi dell'arte del narrare, della narrativa, quindi come si costruisce un personaggio che funziona come gli eroi dei cartoni, Spider-Man e gli altri eroi che piacciono loro o un cattivo credibile come Darth Fener, Voldemort della letteratura appunto famosi nella letteratura mondiale ma faremo anche delle escursioni letterarie quindi all'aperto nei luoghi di interesse della città e dei comuni limitrofi per trovare dei luoghi dell'immaginario in cui scrivere le storie cioè su un tratturo, in un castello per scrivere una storia di fantasmi sarà molto più stimolante per i ragazzi anche mettersi in gioco all'aperto.